Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema Harry Potter stampante 3D upgrade chi più ne ha più ne metta, ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7Potter a partire da oggi avrete sempre un paio di calzini a vostra scelta in omaggio con qualsiasi ordine di qualsiasi importo e il codice sconto è sempre cumulabile con le offerte in corso su Pampling come quella famosa delle 4 maglie per 40€ spedizione gratuita quindi aggiungendo il mio codice avrete anche un paio di calzini gratis naturalmente su Pampling trovate magliette a tema nerd come quella che indosso oggi a tema Harry Potter ma anche di tantissimi altri fandom, anche cover, canottiere, scarpe, calzini e chi più ne ha più ne metta e trovate anche il link sotto la mia vetrina Amazon con tutti i prodotti scelti da me è un negozio a tema nerd, a tema Harry Potter ma anche libri, trono di spade, giochi e altre categorie molto interessanti che ho selezionato personalmente e che trovate in infobox ogni volta che acquistate qualsiasi cosa tramite uno dei miei link aiutate il canale a crescere perché Amazon mi riconosce una piccolissima percentuale che però mi aiuta a portare sempre nuovi contenuti detto ciò chiudiamo questo capitolo e cominciamo a parlare di quello che vedete accanto a me dell'elefante in mezzo alla stanza parliamo della nuovissima stampante Iligu Mas 3 4K io ringrazio già da adesso tantissimo Iligu per avermi inviato questa stampante mi hanno contattato, mi hanno chiesto se volessi provare la nuova stampante in anteprima perché questa stampante uscirà in commercio su Amazon credo a metà agosto adesso sto registrando, siamo a fine luglio e loro mi hanno dato la possibilità di provarla e ragazzi io ve la straconsiglio avevo già fatto un video sulla stampante 3D che vi lascio qui in alto nelle schede e vi avevo mostrato diverse cose che avevo stampato per la prima volta con la resina e vi avevo fatto vedere delle cose grezze poi vi ho mostrato i prodotti finiti nel video della collezione ma oggi li ho qui così ve li faccio anche rivedere e vi parlo anche di quello che vorrei stampare con questa stampante qui io mi ero un po' allontanato dalla stampa 3D ultimamente perché i tempi sono molto lunghi i tempi di stampa con la mia Iligu Mars 2 erano molto lunghi ad esempio avevo stampato questo calice di fuoco che poi ho dipinto e questo calice di fuoco che era stampato in tre pezzi mi ha portato via una giornata intera circa 3-4 ore per ogni componente e questo è diviso in tre parti ma avevo stampato anche altre cose come il pugnale di Bellatrix che è venuto molto bene mi piace davvero tantissimo ma anche in questo caso la lama quindi questa parte qui aveva richiesto circa 7 ore di stampa e ne avevo fallite anche un paio quindi tantissime tantissime ore e poi come vi ricorderete anche la tana dei Weasley che ho finalmente dipinto eccola qui e anche questa stampa mi ha richiesto tantissimo tempo circa 12 ore quindi davvero davvero tanto più è alto il pezzo più ore servono invece ad esempio questi qui i pezzi degli scacchi magici quelli dell'isola di Lewis di Harry Potter sono pezzi molto più piccoli li avevo stampati in orizzontale e in circa due ore erano pronti però questa cosa dei tempi molto lunghi e dei fallimenti che purtroppo capitano mi avevano fatto disaffezionare dalla stampa 3D e invece adesso con questa stampante qui ho già molti progetti in cantiere perché ha ancora una volta dimezzato i tempi di stampa il piatto di stampa è più grande io ce l'ho qui ve lo voglio far vedere questo piatto di stampa è più grande rispetto a quello precedente che possedevo e infatti qui adesso posso stampare cose più grandi posso mettere più pezzi da stampare è cosa fondamentale la stampante molto molto più veloce quando per stampare un pezzo degli scacchi con la mia impiegavo due ore adesso con questa stampante qui lo posso fare in 40 minuti ad esempio o posso stampare il pugnale di Bellatrix anziché in 7 ore in 3 ore quindi capite che il vantaggio è davvero fuori misura naturalmente la stampante è pressoché uguale a quella precedente perché non è che cambi molto a livello di funzionamento abbiamo sempre la vasca dove andare a mettere la resina e in questo caso è più grande visto che è più grande anche il piatto di stampa e poi abbiamo una porta USB sul davanti dove andare a inserire i nostri file da stampare e abbiamo lo schermo touchscreen e un tasto di accensione sul retro invece abbiamo solamente l'alimentazione e i colori sono sempre quelli classici di Iligu quindi nero e rosso che a me piacciono un sacco e mi piace tantissimo anche questa nuova cupoletta con questa forma qui svasata davanti devo dire che mi dispiace che non hanno messo la guarnizione non ho trovato la guarnizione nella scatola a meno che si trovi qui dentro dentro il toolkit e io mi auguro di sì perché non l'ho ancora effettivamente provata ma ero molto molto curioso di aprirla di unboxarla insieme a voi mi hanno inviato la versione americana perché ancora quella europea non era disponibile ma nessun problema perché il cavo americano è questo qui ma è praticamente uguale lo stesso attacco della mia macchinetta del caffè quindi basta cambiare il cavo e attaccare l'alimentatore e non c'è nessun problema ecco qui che abbiamo i fantastici conetti per andare a versare la resina nella boccetta abbiamo le chiavi e le viti per sostituire il foglietto trasparente il FEP della vaschetta abbiamo anche le chiavi per stringere e tarare il piatto quindi per andare a livellare il piatto come vi avevo già spiegato nel video precedente abbiamo anche la chiavetta dove andare a inserire i nostri file da stampare e abbiamo anche C2Box Pro in questo caso infatti viene fornito un anno di C2Box Pro che è una cosa molto molto importante è il programma che serve a creare i file da stampare e ragazzi già quello traduito è molto valido ma quello Pro diciamo che ci dà degli skill in più per poter evitare di fallare delle stampe quindi è una cosa molto importante abbiamo le classiche spatoline quella di metallo e quella di plastica per andare a staccare i pezzi dal piatto una volta finiti abbiamo dei guanti e delle mascherine le normali chirurgiche perché la resina è tossica ve lo avevo già detto non bisogna toccare con le mani la resina liquida non bisogna respirare non bisogna stampare nei luoghi chiusi bisogna mettersi in un balcone bisogna mettersi vicino a una finestra aperta durante tutta la stampa magari non stare nella stessa stanza una volta finita la stampa indossare tutte le protezioni per staccare il pezzo lavarlo e curarlo e a proposito di lavare e curare il pezzo adesso vi farò vedere un'altra cosa e poi abbiamo anche la tronchesina comunque molto utile ma non è presente la guarnizione tra la calotta e la stampante questa cosa un pochino mi dispiace perché mi dava più una sensazione di sicurezza con la vecchia stampante ma tant'è non l'hanno messa adesso però voglio farvi vedere cos'altro mi hanno mandato che è un upgrade ancora più grande per la mia postazione di stampa ecco qua ragazzi il bundle dei miei sogni io stampavo con la mia stampante mass pro ma avevo difficoltà ogni volta nel lavare e curare il mio pezzo perché mi ero comprato una lampada UV su Amazon e utilizzavo il mio piattino girevole quello per fotografare i pop per andare a cuocere il pezzo con la lampada UV andava bene anche il fornetto per le unghie per intenderci e poi dovevo lavare il mio pezzo con acqua che poi va comunque smaltita nel modo corretto perché è un'acqua piena di resine ma andavo a pulire dentro una bacinella una vaschetta del gelato ragazzi combinavo un casino ogni volta per andare a finire il mio pezzo mentre adesso i dico mi ha mandato il bundle è una confezione unica che contiene questi due prodotti e sono utilissimi abbiamo da questa parte il fornetto per andare a cuocere il nostro pezzo una volta stampato e da questa parte invece abbiamo la macchina, la lavatrice la washing machine per andare a pulire il nostro pezzo una volta stampato la prima cosa da fare è togliere il pezzo dal nostro supporto con la spatola e in questo caso possiamo anche lasciarlo qui attaccato perché basta utilizzare questo riduttore si va ad inserire qui all'interno della vaschetta e poi si può poggiare tranquillamente la nostra piattaforma all'interno e lavarlo col pezzo ancora attaccato o altrimenti possiamo semplicemente andare a mettere il nostro pezzo dentro questo cestello che sembra un po' quello per friggere le patatine o gli arancini e si va ad inserire qui dentro dentro questo serbatoio pieno d'acqua che è magnetico è molto molto interessante abbiamo sotto una sorta di ventola magnetica che si va ad attaccare al fondo di questa base qui e poi comincerà a roteare con all'interno l'acqua e il prodotto per andare a lavare il pezzo si mette il tappo sopra si imposta il timer che può essere un minuto o due minuti e si va a pulire il nostro pezzo per bene una volta pulito si va a togliere dalla nostra griglia e si va a mettere invece su questa base rotante qui che vedete e con questi led dietro ci sono anche dei led sotto la base rotante si va anche in questo caso ad impostare il timer due o cinque minuti dipende dal pezzo o dalla grandezza e si mette qui all'interno si fa partire la macchina il piatto comincia a roteare i led si accendono i led UV e il nostro pezzo si va a cuocere alla perfezione ragazzi questi due prodotti qui mi hanno svoltato completamente la stampa 3D perché avevo quella postazione un po' provvisoria fuori nel mio terrazzino ma adesso direi che diventerà una cosa molto più professionale io non vedo l'ora di poter stampare finalmente la mia candela di Harry Potter avete presente la candela del Pigioniero di Azkaban quella presente nello studio di Lupin quella a forma di colonna vertebrale bene esiste il file da stampare è un file in sei parti sono pezzi molto grossi come potete immaginare perché la candela finale è grande così ma con la mia vecchia stampante non ho mai neanche provato a farlo perché sarebbero serviti giorni e giorni di stampa mentre in questo caso grazie alla Heligo 3 4K andrò a dimezzare di ben due volte i tempi di stampa e poi ho anche queste due macchine che mi aiuteranno sia a pulire che a cuocere i pezzi quindi ragazzi la stampa 3D sempre più accessibile modelli sempre più performanti accessori sempre più utili io ringrazio tantissimo Heligo e ragazzi quest'inverno tantissima roba da sfornare a tema potteriano e piccolo spoiler voglio anche realizzare quest'anno un albero di Natale a tema Harry Potter e quindi penso che queste cose mi torneranno molto utili per stampare delle decorazioni quindi fatemi sapere cosa ne pensate se voi avete già acquistato una stampante 3D so che alcuni di voi dopo il mio primo video avevano già acquistato una Heligo e ragazzi anche tenendo quella stampante lì questi due prodotti io ve li straconsiglio non costano neanche tanto vengono venduti in bundle e vi lascio i link sotto in info box bene detto questo vi ricordo anche che in info box trovate l'indirizzo per spedire le vostre lettere i vostri messaggi i vostri pacchetti al negozio al quale mi appoggio perché a settembre io ho intenzione di realizzare una pubblica fissa dove apro la vostra posta le vostre lettere i vostri disegni e mi piacerebbe tantissimo avere tante cose da aprire assieme a voi e potervi ringraziare in un video dedicato fatto per bene detto questo ragazzi io chiudo il becco ringrazio ancora tantissimo Heligo per avermi inviato questi prodotti per avermi aiutato ad implementare la mia postazione di stampa e ragazzi io a questo punto vi saluto vi do appuntamento a presto con un altro video e mi raccomando non datemi mai per disperso perché io torno sempre ciao a presto